Joe Biden ha espresso le sue condoglianze alla regina. All'intera famiglia reale e al popolo del Regno Unito. Riconoscendo che oggi sarebbe stato il centesimo compleanno del principe Filippo e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso le sue condoglianze alla regina per la morte del principe Filippo in un messaggio emozionante. Per prima cosa vorrei esprimere le nostre condoglianze a nome di Gile e io a sua maestà alla regina Elisabetta II. All'intera famiglia reale e al popolo del Regno Unito. Ha detto oggi in una conferenza stampa in Cornovaglia. Punto. Oggi sarebbe stato il centesimo compleanno del principe Filippo. So che ci sono molte persone che sentono la sua assenza oggi. Le sue osservazioni sono arrivate prima che dicesse di aver avuto un incontro molto produttivo con Boris Johnson. Ha detto ai giornalisti in Cornovaglia che la carta atlantica rivitalizzata affronterà le sfide chiave di questo secolo. Sicurezza informatica, tecnologie emergenti, salute globale e cambiamento climatico. Punto. Biden ha dichiarato. Abbiamo affermato il rapporto speciale che non è detto alla leggera il rapporto speciale tra il nostro popolo e rinnovato il nostro impegno a difendere i valori democratici duraturi che entrambe le nostre nazioni condividono. Biden ha anche affermato che Johnson ha condotto una forte campagna per vaccinare le persone in tutto il Regno Unito. Parlando fuori dall'hotel Tregenna Castle A.S.T. Ives, ha affermato che gli Stati Uniti aiuteranno a portare il mondo fuori da questa pandemia insieme ad altri paesi del G7. Gli Stati Uniti acquisteranno mezzo miliardo di dosi di vaccino contro il Covid-19 per i paesi a basso reddito senza alcun vincolo, ha affermato Biden giovedì. Mezzo miliardo di vaccini inizieranno ad essere spediti ad agosto, non appena escono dalla linea di produzione, ha detto in una conferenza stampa prima del vertice del G7 in Gran Bretagna. Gli Stati Uniti stanno fornendo questo mezzo miliardo di dosi, senza alcun vincolo. Nessun vincolo.